La festa patronale dedicata ai Santi Patroni Pietro e Paolo, che si svolge il 29 giugno ad Agropoli, quest'anno si arricchisce di una serie di novità e riprende una tradizione di 40 anni fa. In questo 2019 si festeggiano gli 800 anni dall'incontro tra San Francesco e il Sultano e, come anche altri storici locali hanno confermato, dell'incontro Agropoli tra il Santo ad Assisi e San Daniele Fasanella, nonché il prossimo 2020 gli 800 anni della svolta francescana di Fernando da Lisbona che assumerà il nome di Antonio di Padova. Tutte queste novità sono state illustrate in conferenza stampa sabato scorso presso l'Aula Consigliare Agropolese. Riprendiamo questa tradizione interrotta negli anni 70 con l'autorizzazione del Vescovo per questa concomitanza di anniversari nel segno, diciamo, della presenza di San Francesco ad Agropoli. Quindi riporteremo in professione, oltre ai Santi Patroni, le tre statue più antiche che sono rimaste custodite nella Chiesa Madre, cioè quella della Madonna del Rosario, che è una carta pesta leccese degli inizi del Novecento e poi le statue di Sant'Antonio e di San Francesco che sono le statue che provengono dall'antico convento e dopo la soppressione napoleonica sono poi state conservate nella Chiesa Madre. Tutto questo sarà preceduto da un novenario e in particolare da tre giorni, il 25, il 26, il 27, che vedranno protagonisti alcune categorie professionali. Io approfitto già per invitarli attraverso Cilento Channel e sono queste. Il giorno 25 dedicheremo, ecco, la celebrazione dell'Eucaristia ai pescatori, ai portuali e alle forze dell'ordine. Il 26 giugno ai catechisti, agli insegnanti e a tutti gli operatori scolastici, mentre il 27, alle associazioni di volontariato, ai medici, agli operatori sanitari e ai ferrovieri. In più ci sarà quest'altra iniziativa, cioè l'allestimento di un gazebo in corso Garibaldi che proietterà durante le serate un filmato che vuole appunto riprendere la storia della Chiesa Madre e il legame tra il culto dei Santi Patroni e la città di Agropoli. Faccio i complimenti insomma a Don Carlo e alla parrocchia della Chiesa Madre per questa iniziativa, ma faccio soprattutto i complimenti per la continua attività che la parrocchia sta svolgendo in città, che ho visto in grande movimento e in grande fermento. E questa partecipazione che si incrementa e aumenta, certamente mette in modo altri meccanismi virtuosi, maggiore interesse, maggiore orgoglio per rappresentare meglio la nostra città e quindi conseguentemente tutto porterà a iniziative nuove come questa qui, che è il giusto proseguimento di questo progetto di far vivere più la parrocchia e farla diventare ancora più protagonista. Questo naturalmente fa bene a tutta la città e quindi voglio fare i complimenti per questo tipo di iniziativa e noi saremo presenti e daremo il nostro contributo perché è giusto così e mi auguro veramente che possa essere una festa dei Santi Patroni ancora più viva, ancora più piena di gente, che possa anche avere il giusto richiamo da un punto di vista turistico come noi ci auguriamo, oltre che essere un giorno di preghiera importante per tutti i fedeli della nostra città.